allora stiamo parlando con la nostra antonella antonella ciao antonella come va bene 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 senti antonella antonella domani si parte domani si parte come come è andata questa settimana qui bellissima cosa ne pensi di gb viaggi bellissima bellissima gb viaggi eh sì sì ma la consiglieresti ai tuoi amici certo come no certo come no è sintetica la nostra antonella per gli amici antonietta però attenzione il prossimo anno sceglieresti ancora gb viaggi perché no perché no quindi va bene allora perché siccome perché no la tua risposta ufficiale è l'animazione dico ti è piaciuta perché no al cento per cento no devi dire perché no no devi dire perché no perché no perché no perché no bene quindi un saluto dalla baia dei gita la nostra antonella allora perché perché come perché bo perché perché no ciao number one gaetano yes of course di cursa ciao